Il primo dell'anno noi facciamo sempre il bagno, bella, fresca, robusta come freddo, però è piacevole perché poi nonostante il tempo sia nuvoloso e quindi comunque con questa foschia qui, diciamo da un certo punto di vista si sente meno la differenza tra il freddo dell'acqua e la temperatura esterna. È una cosa spontanea che comunque non entrerà negli annali dei registri con le presenze della effettivamente manifestazione che abbiamo fatto fino a due anni fa. Buon anno! Spontanea quest'anno, tanti amici sono venuti qui sulla spiaggia di Serapo a partecipare al tuffo. Speriamo che questo sia l'ultimo anno di questa manifestazione a livello spontaneo e che si possa riprendere al più presto l'evento che si è fatto negli anni precedenti con un caloroso pubblico e con numerose persone a fare il bagno. Questa è una tradizione che negli anni è cresciuta. Abbiamo iniziato 15 anni fa con poche persone e oggi siamo diventati un bel gruppo di amici. Mi piacerebbe il primo giorno del 2022, è molto speciale e molto felice di essere in Geita per questo speciale festival. Spero che l'ultimo anno sarò qui. Una volta che si è buttato è tranquillo, è proprio tranquillo. Buona la mia buona! Un augurio a un buon 2022! A Issa Issa Issa! A casa, a casa, a casa! A costa, a costa, a costa, alla salute nostra!